Finalmente ce l'ho! Che stai a fa, Steph? Che stai a fa? Siediti! E hai anche i pantaloni del pigiama, ma ti sembra? Non mi interessa! Io ho giocato a questo gioco solo per avere questo ballo Non giocavo al gioco per divertimento Volevo il ballo e ora ce l'ho! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Steph che si giocava Fortnite! E benvenuti in una nuovissima episodio di Fortnite in cui proveremo a vincere oggi, Steph! Ci stiamo allenati tanto, quindi ce la possiamo fare Esatto, esatto, esatto Siamo a miliardi parecchio Ci stiamo allenando, buttandoci soltanto nelle città per abituarci sempre più a foitare Quindi quest'oggi proviamo sia a vincere il game, sia a fare tanti kill Insomma, in linea generale saranno dei game senza dubbio divertenti Quindi preparatevi E Feriniki si è comprata la nuova skin di San Valentino Non è vero? Sì, lo ha fatto Lo so, Consolini, ve lo aspettavate Nessuno l'ha vista, quindi non puoi dire che è vero, Steph Tanto i Consolini lo sapevano già Se i Consolini hanno visto che era uscita quella skin Hanno fatto, ok, questa la compra Feriniki Non c'era neanche bisogno della conferma Allora, ditemi che non è fatta perfetta per me Cioè, non è solo per San Valentino, è perfetta per Feriniki Cioè, ditemi che non è perfetta, dai Un orso rosa, ma perché non vuole essere un orso fucsia Lo sai che io ci parlo per i server e mi hanno detto Guarda, abbiamo anche fatto la skin per Feriniki Tutta per lei Sì, 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 io te l'ho detto Io te l'ho detto che è stata fatta per me Allora, andiamo a Parco Pacifico, va Due Tre Quattro Ne abbiamo, eh Ce n'è un po' di gente Ce n'è un po' di gente Vengono alla festa Io sto puntando queste ultime case Sì, ma non quella che ci va un tipo Quella centrale, quella centrale No, non lì Qui, 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 qui Ho dovuto accadere Va bene anche quella, credo Eh, c'erano tipi ovunque Eh, lo so Infatti cercavo di farti capire, ma È difficile Eh, lo so, ma ormai ero puntata verso quella direzione Ho già il pompa bello Ho già il pompa bello Ho già il pompa bello Fare non morire Uh, anche l'altra pompa Un'arma, una pistola ho trovato Sappiamo già come giocherò questo game Sappiamo già come giocherò questo game Allora, facciamo così Qua Perfetto Ok, vado di sopra Ci dovrebbe essere una sola ceste Ho pochissimi materiali Pompa viola Va bene, ho capito che questa era la casa dei pompa Ne ho trovato tre per ora Bend Io ho trovato solo una pistola Ok, ok È buona È un medikit per quando mi spareranno Vabbè, quello l'ho trovato anche io Così, guarda, se non ti basta uno ne ho due È contenta? Ok M16 Butto le bende E poi mi sparo al volo questo shield E mi riprendo il medikit Veloce, 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 veloce Riesci ad avvicinarti? A me no, siamo lontanissimi Eh no, per ora no Allora mi prendo munizioni e mi avvicino io Che sono ben armato Ok Che succede? Apro una cesta e trovo un lanciagranate In più sono anche piena di granate Perché è l'unica cosa decente che ho trovato Quindi oggi posso solo lanciare granate Vai, è destino allora Oh, un'altra cesta Dai, qualcosa di bello Il secondo shield Ok Ok, veloce, me lo tiro E ci sono Ferre, adesso arrivo Occhio perché tra me e te C'è di sicuro un tipo in una casa E lo so E che faccio? Gli tiro granate, cioè Io provo a correre È una buona tattica Esco e corro Ok Lo vedo Aiutami Ferre, ti prego No, 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 no Ucciso? Ferre, lui è morto ma c'è qualcun altro Eh, certo che c'è Devo curarmi però, come faccio? Entra in casa e curati Ok Nella mia casa Però vado, vado, vado Sì, sì, sì Vai, vai, veloce, vado Mi sto guardando intorno? Cavolo, ma ti sembra che devo avere solo una pistoletta e 50 granate, Steph? Ringrazia che avevo la zona da cui sparare Non lo so Allora, dove è finito l'amico? Non lo so Porca miseria Ti sto lasciando il loot del tipo Quindi appena ti fu li vieni Sì, 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 ci sono Nel mentre sto controllando Ma ti giuro che non vedo l'alleato che viene Quindi non so cosa sta facendo Adesso ti spara Prendiamo tutto Ok, non hai preso i colpi delle M16? Eh, lo so, sto correndo Vai, vai, vai Aspetta, ne ho per ora 30 Comunque basta Vai a prendere Vai, vai, vai Tranquilla Tranquilla Sì, sì, sì C'è Steph Se mi sparano C'è Steph che guarda C'è Steph che guarda Ho provato a fare un giro veloce Cercando di prendere tutto Ma qualcosa dovevo lasciare È ovvio Però è la cosa più importante Porca miseria Ok Quanto siamo lontani dalla zona? Tantissimo E non sappiamo dove l'amico di quel suo Che è arrabbiato È molto arrabbiato È certo che è arrabbiato Ci vorrà sicuramente uccidere Almeno uno dei due per vendicarlo Sì Sicuramente Assolutamente sì Vabbè, vieni Dobbiamo sempre ascoltare Per capire se magari Nella casa in cui passiamo Uh, sento passi Sì Sento passi nel legno È in questa casa È in questa casa Sì, sì Infatti qua è costruito Aspetta, Steph Hanno provato a spararci Ho provato a tirare una granata dentro Non si sa mai Che magari lo prendi Sì, sì Fatto bene Fatto bene Fatto bene Lo sento che corre Lo so Quindi la granata È fuori? Non lo so E sto sul tetto È fermo Aspetta un attimo Continua Sono piena Ok Saranno uno o due per di più Occhio, eh, occhio Che ne sto continuando a tirare Beh, gli stiamo anche distruggendo Metà casa Prima o poi dovrà uscirne fuori Ti giuro Non capisco dove cavolo si è messo Manca metà casa ormai Dai Esci fuori che non abbiamo tempo Questo vuole rovinarci il game Niente, niente No, dobbiamo iniziare a muoverci però, Steph Eh, lo so Ma ormai dobbiamo killarlo Perché moriamo di zona altrimenti Secondo me è nel sotterraneo Fai retiri una granata nel sotterraneo? Ma qui? Togliti Almeno spacco Gli faccio paura Che facciamo? L'ho tirata lì sotto, eh Ok Dimmi se gli hai fatto danno Eh, no Non credo Ok, controllo Continuo a tirarne, eh Quindi fatta insieme Ok Lo vedo Ok Dai, è distrutta tutta la casa Ucciso Yes Yes Bravi, bravi Andiamo via, andiamo via, andiamo via Eh, il medico Prendi gli scildini Ok M16 blue bellissimo Andiamo via Ok, gli scildini Butto la pistola Sì, 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 via Corri, 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 corri Ci potrebbe essere altra gente, eh? No, però andiamo via la zona Lo so Dopo questi fight Non voglio morire di zona Intendo, stai attenta, capito? Sì, 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 sì Mamma mia, che ansia Allora Io ho tre pompa, non va bene Io ne ho uno, però Ho l'MSD, ancora bianco Il lancio granato l'ho ottenuto Sì Gli scildini che appena posso Mi bevo O medikit Quindi comunque, dai Non va malissimo No, 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 dai Stiamo uscendo decentemente dalla città Secondo me c'erano altri due Quindi spero che non ci prendano alle spalle Mentre corriamo per la zona No, certo, certo Stiamo ovviamente attenti Anche qui di fronte Che magari erano già venuti verso qua No, ci tocca passare dal lago del bottino Oh, lago del bottino Ho pinacoli pendenti Io odio lago del bottino Finisce sempre male Dove è peggio? Non lo so Dove può essere peggio? Non lo so, ti giuro Lo so Forse conviene tagliare verso sinistra A girare un po' il lago del bottino Passare un po' dalla zona di Acri E dopodiché rientrare Ok, ok Però hanno provato a spararci? Vero? Sì Ma con cosa? Con la balestra? Non lo so, con la balestra Però Sinceramente E loro hanno provato a spararci sicuro, eh Una terra? Che brutta vita che ho, guarda Ok, uno l'ho colpito e gli ho tolto un po' di shield L'altro comunque è a terra in mezzo al lago Ok Sta dietro l'albero Eh, l'ho visto Colpito Gli arriva gente da dietro Colpito Dobbiamo andare Dobbiamo andare, dobbiamo andare C'hai fatta? Cavolo, che rischio Ormai lo voglio morto Oh Andiamo Sono morti tutti e due Perché ce n'era un altro che nel lago Sì, sì Era un altro team ancora Ok, allora andiamo via Andiamo via È un delirio Via, via, via dalla zona Dalla tempesta Hai cura, eh? Medikit Perfetto anche io Dai là ce lo tiriamo adesso Eh, pazienza, sì No, anche perché dobbiamo essere con la vita piena Sicuramente c'è un altro team Odio fare kill che poi non lutto Perché finisco soltanto i colpi alla fine Alla nostra a sinistra Minimo uno Lo vedi? Sì Li andiamo addosso? Sì Vai Pronta? Yes Ucciso? L'altro alla sinistra Sempre Qui Yes Bravi, bravi Questi so da luttare Sì Questi sì che so da luttare Sì, assolutamente sì Ok, 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 ok Mi cambio le M16 anche se sono fuori dalla zona Però mi serviva troppo Che c'è? Vieni dentro Ok Hai campfire? Però c'è sì, 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 sì Aspetta Dai Ho la porta e mi è chiuso fuori Ferre, porca miseria Non ho chiuso tutto Non mi fa entrare Vieni, abbassati Abbassati Non mi fa abbassare, ora sì Oh, Gesù Hai fatto, mamma mia, Steph Zitto, un attimo Mi metti ansia Mi metti ansia tu di tutto il giorno Ci dobbiamo muovere Zitto Che delirio Quanti kill? Due Io due Ferre, gente A terra A terra, uno Uuuuh Li abbiamo uccisi, eh Li abbiamo Io non ci posso credere Io non ci posso credere Tre kill? Io sono a cinque Siamo otto kill Io ho detto Qua siamo morti Io ho detto Qua siamo morti Completamente morti Cioè ci ha preso Troppo alla sprovvista Completamente morti Ok, finito Buttiamo tutto Arrivederci Grazie Allenamento un corno Io comunque dovevo Ancora curarmi E tirati il medikit Vabbè, sì Aspetta Mi ritiro anche gli shieldini Fai attenzione Uh, aspetta Ce l'hai me 16 blu Per caso Sì, sì, è tutto tuo Ah no, è mio L'ho buttato io Cavolo, Steph Mi hai luto Ah no, ce ne sono due Perfetto Non sono più luta adesso Aspetta che c'è anche questo Quelli verdi forti, eh Ok Se lo vuoi Ok, ho preso un po' di maz Allora, mi devo sistemare Che delirio Che delirio questo game Allora Ricaricato Ricaricato Ricarico Quanti col piede Le me 16, 84 Io ne ho 108 Non siamo messi molto meglio Ho anche il cecchino Uh, ma questo viola Non l'avevo visto Sì, ma c'è pure quello verde Se lo vuoi, eh Anche qua L'altro verde Scegli tu Era il mio Perché sinceramente Poi c'era la palestra Che non so se vuoi No, 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 no Ok Mi lascio il lanciagranate E i due fucili a pompa Dai, veloce che c'è la zona Continuano a essere un pochettino visibili Però adesso si stanno coprendo Guardiamoci un po' intorno Che non si sta mai Anche perché loro comunque erano Pensierosi su un altro team Ferre, non ci arrivi da lì Occhio Purtroppo Ma mi sa che Ci hanno provato a colpire da un altro lato Sì, può essere No, no, son loro Che noia Eh, vabbè, ma è normale Hai ancora scendini? Sì, due Ok, vabbè Nel caso me li dai dopo, dai Ok Che rischio che si è preso Oh, ma c'è qualcun altro che spara Uno l'hanno buttato a terra Stanno lottando con un altro team L'hanno ucciso Ok Pensiamo all'altro team Colpito Cavolo, non ho tutti Sì Colpiti a terra Eliminato E ho ucciso anche l'altro Sono arrivato a cinque kill Se fa dieci Andiamo a lottare? Sì È morto anche l'amico di quello che era già morto? Sì, sì, sì Sicuri? Ne ho uccisi due e mi ha dato final kill di entrambi È ok, però l'altro No, non lo so Non possiamo essere sicuri, eh Però fai attenzione Ti inizi il pompa e vediamo un po' che succede Ok, sembra tutto a posto Preparati a sparare Sto dicendo cose che non hanno senso Lo so Perché entro sempre più in ansia Lo so Spazio per gli shieldini Perché io ho appena preso un medikit Riesci a prendere anche i miei? Sì Presi? Così, sì Lo shield grande li hai preso tu, sì? Sì, l'ho bevuto perché non ce l'avevo completo Ok, io ho tre medikit Sento rumori O sei tu? No, sono io Riesci a prendere i medikit Prendimi i medikit Così ti butta i tuoi Ok, ok Ok, perfetto Ne abbiamo tre Casi non ci capisco più nulla Ok, quindi È pieno anche di medikit Fere, calma Dimmi Calma Se no rischiamo di morire È soltanto pensando al loot Ok Ok, non facciamo questo errore Ricaricati tutte le armi Che è lootato Perché magari sono scariche Sì, esatto E muoviamoci per la nuova zona Ho visto bullare? No? Era già bullato Ok Allora, vedo un tipo Ai magazzini Ok Aspetta All'amico a terra Un attimo, un attimo, un attimo Un attimo Io non ho Non ho cecchino Quindi ci devi pensare tu Devo ricaricare, no Stai scherzando? È colpito però Tarelli è passato in mezzo alle gambe Ma l'ho visto da qui Praticamente non è possibile Cavolo Hanno buttato giù l'amico Non so chi Eh, sì, continuano No, forse non è riuscito a mandarlo Cioè No, no, Fere Io stavo Ah, no, gli arrivano Gli arrivano dalla sinistra Stanno costruendo in questo momento Gli stanno arrivando addosso Ok, grazie Non ci sono più Ok Però gli stavano arrivando addosso Il fatto che gli sia passato tra le gambe Da denuncia Ve lo giuro E bisogna fare attenzione, Steph Perché quelli saranno ancora vivi E ora che sono fuori dalla zona Vengono verso di noi, eh Ok Di fronte a noi Io ho visto qualcosa a rompersi C'è un tipo di fronte a noi, Steph Sotto l'albero Ok Riesci a sperare granate? Sì Vai Massacralo Continua, continua Raffica, Raffica Fallo scappare Ok Perfetto L'ho visto Lo vedi? Sì Colpito, ucciso Ok, quante kill? Sei Io sono sei Siamo a dodici kill Che bravo Siamo rimasti in dieci Sì Ce la possiamo fare? Allora, non andrei a luttarlo Ti dico la verità Ci cade anche un airdrop Uh, bella Io vorrei un RPG però Il tipo non ce l'ha, vero? Aspetta Non lo so Non credo Ok Però quell'airdrop è da aprire Sono d'accordo Ok Allora, io stavo cercando comunque di tenere sempre il docchio in quella direzione Perché ti ripeto Quelli che hanno costruito Controllo dietro di noi per sicurezza al volo Ci vengono addosso E infatti ho notato quello dell'albero Ma scusa, voleva farci un attacco Si mette a distruggere albiro Io me ne sono accorto No, io non credo che Lui mi sa che non sapeva che noi c'eravamo Probabilmente stavo pensando ad altra gente Perché ti ripeto Ho visto un albero distruggerci Quindi ho fatto Siamo entrambi qui Deve essere per forza qualcuno Vabbè Vado all'airdrop Riesci a coprirmi? Dov'è? Lo vedi? Sì Ok Sì, sì, sì Occhio eh È il momento più pericoloso Ho paurissima Se c'è l'RPG Possiamo vincere Ho paura che ti sparino da troppo lontano Capisci? E quindi non riesco a vedere Minigun Vabbè Non l'hai preso? No Ok Lascia stare Anzi lo prendo Dai, ok Comunque per distruggere costruzioni È pur sempre abbastanza buono Sì, non avendo l'RPG Ci arrangiamo con questo Anche perché guarda Lancia granate Arrivano, arrivano, arrivano Gli altri due granate Verso gli alberi A 165-150 Sto andando Verso quegli alberoni Molto lontani? No, 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 no Perché stavano venendo Verso questa direzione Ci sono solo sette persone Ok Quindi Non ho vision? Allora non l'ho visto adesso Perché è sotto la collinetta Ok Quindi non ho più visione Ok Io mi sto guillando eh Li vedi? Li vedi che costruiscono? Li vedi? Sì, sì, sì Non riesco a tenere le granate No, è troppo lontano Se vuoi posso provare A spaccarli un po' Non lo so Non lo so Non so se è il caso di Boh Di provare a colpirli Non lo so Non so che fa Io forse mi costruisco Un altro po' qua Perché non sono messa così bene Voglio stare un po' più in alto Ok Anche se mi avrà visto costruire Ma pazienza Tanto comunque È intento anche lui a costruire Quindi Io mi sono fatto una fortezza Dietro? Nessuno? No No, dietro sembrerebbe di no C'è anche la zona Quindi non può esserci nessun altro Dai Uff Spero Ok Ok Che ansia Allora Che si fa? Io gli buco la fortezza a questi Io ci provo, scusami eh Le la faccio crollare eh Ok Non lo vedo Non lo vedo più Ok Dove è finito? Sotto forse Ora crolla Ok Ok Sei andato Sei andato Sei spostato Ok Ok Quest'albero che ho davanti Mi dà un fastidio Adesso me lo rompo va Ah Occhio 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 Ti arrivano Allora dalla collinetta Ad est Ti stanno facendo il giro Dalla tua sinistra Steph Ok Ti arrivano eh Mi tirano granate Colpito Colpito Non vedo niente Aia Colpiscono anche me Sono basso Buttata a terra Sono caduto Però qualcuno ha provato a sparare Anche me non vedo Non vedo da dove Cavolo 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 Siamo rimasti in quattro Due contro due Copriti eh Siamo ancora dentro la zona Quindi copriti Fai attenzione Io rimango qua Devo rischiare No 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 Non mi morire Però all'ultimo eh Ti prego Ok Lo vedo Lo vedo Ho una struttura 210 Vedo un tipo sopra Ok 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 Sta cercando di colpirmi Stai safe Stai safe Stai safe Siamo noi dentro la zona Non loro Ok Tienilo a mente Sì 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 Lì che lo vedo Con un cecchino sicuramente in mano Che cerca di colpirmi Io sono in costante movimento Per cercare di non farmi colpire Ah Sto panicando Sono nel panico Ok Sappiamo se è uno o due Ne ho visto uno Due due Boom Atterra uno dei due Ok Atterra uno dei due Per dare un po' fastidio Allora sono fuori dalla zona E una terra Vai distruggiamo Diamo fastidio Li vedi? No da qui no Mi dispiace Perché ho l'alberone Cavolo Dove cavolo sono finiti? Dove bullano? Vedi che c'è un punto Dove stanno bullando? Sì Eh però ripeto C'ho quell'accidente di alberone Che non mi fa vedere Rompilo Spara all'albero Ok Ok li vedo correre Ok Hanno la zona Provando a colpirlo Ho colpito Brava Gli ho dato 70 di scudo Devo ricaricare Ok No no Mi hanno cecchinato Steph Ma non c'era solo quello No Ferra non ho due Siamo due contro due Cavolo Non l'ho visto Eh Cavolo Sorry Che scatole Una terra Ok vai Ti prego Uno contro uno Scusami se ho fatto un errore madornale Pensavo che l'altro fosse a terra Che ci fosse solo quello E non ci ho badato Perché devo sbagliare all'ultimo Concentrati Ti prego Ti prego Ok fai attenzione Dov'è? Sta nascosto Ok fai attenzione Fai attenzione Lo vedi lo vedi Detro la collinetta Arrestato anche l'amico Sono di nuovo in due Ha fatto in tempo Cavolo Io rischio Ok Io sto anche per morire Che rosic 13 Di Vita 13 Dannatissimi Di vita Porca miseria 7 kill io Sei tu Eravamo a 13 Questa terra a 14 Erano 15 kill Piango Piango Dio 2-5-6 to 4-5-6 to 5-7-6 to 6-7-6 to 5-6 to 6-7-6 to 6-7-6 to 6-7-6 to 6-7-8-6 to 6-7-6 to 9-6 to 7-7-8.